Per la gioia di tutti gli abbonati Netflix, giugno sarà un mese ricco di avventure ed emozioni. Sullo schermo vedremo il ritorno del supereroe Marvel, Luke Cage, pronto a riordinare le strade di Harlem, le agguerrite Urstals in Body, Scaldamuscoli e Rossetto di Glow, ma, soprattutto, il ritorno dell'attesissimo finale di Sense8 di due ore. La lista di tutte le serie TV in arrivo su Netflix. Pubblicizzata come la prima commedia poliromantica Yumeo era prele danze il un grado del mese con una nuova terza stagione carica di sentimento. Le avventure di Jack, Emma e Isi tornano ad appassionarci e tenerci stretti alla poltrona con nuovi dieci, romantici, episodi. Prepariamoci anche al ritorno della serie crime britannica, Marcella, diretta da Hans Rosenfeld. In questa nuova e imperdibile stagione, la detective Marcella Begland tornerà ad investigare su un misterioso serial killer pronta a risolvere un nuovo caso. Dopo mesi di critiche per la cancellazione della serie TV diretta dalle sorelle Wachousek, Sense8, torna con un doppio episodio finale di due ore e più, intitolato Amor Vicitomnia dove si svelerà il destino dei sensati. Nuovi episodi in programma anche per la serie comica con Ashton Cucer ambientata in un ranch del Colorado. Il ritorno anche del supereroe Marvel, Luke Cage, pronto a rientrare in scena per far pulizia tra le strade di Harlem. Torna l'infallibile cecchino Bob Liesbagger pronto a risolvere grandi misteri e rimettere a posto le cose lasciate in sospeso nella stagione precedente. Commedia tutta al femminile con protagoniste delle vere e proprie eroine dell'Urstling, pronte a superare qualsiasi difficoltà e tornare in scena più energiche che mai. Quindi che dire, mettetevi comodi, con i popcorn in mano, e godetevi le novità Netflix di giugno.